Notizie in un click punto com è una testata giornalistica online con informazione a livello nazionale e locale. Notizie in un click punto com pubblica fatti non opinioni. Notizie in un click punto com la notizia giusta per te. Ciao io sono Loredana e vi do il benvenuto nel nostro canale di youtube. Piccola rassegna stampa del giorno dove leggiamo insieme alcuni titoli di articoli che abbiamo pubblicato all'interno del nostro portale di informazione notizie in un click punto com. Ricordo per tutti coloro che vogliono approfondire e possono collegarsi tranquillamente al nostro sito su notizie in un click punto com e andare a cliccare come dico sempre dove gli pare. Grazie per seguirci sul nostro canale qui di youtube e i nostri lettori consolidati ormai da quasi vent'anni nei nostri social di twitter, facebook, instagram e linkedin. Buona visione. Abra Cartabia. Marco Travaglio in attesa del prossimo film di Woody Allen. Chi vuol farsi qualche sanne risatto può vedersi le audizioni alla camera sul DLGS. Cartabia per rafforzare la presunzione di innocenza, cioè per abolire la cronaca giudiziaria. Renzi, io vittima di Morisi e Casalino, non userò lo stesso stile. Boschi in dieci anni, cresciuta di 587 mila ettari, la superficie verde, salvate il soldato Morisi, taglia Cucchi, la bestia ha sbranato la mia famiglia, ma non odio Luca Morisi. Mette Covid free, speranza, firma, nuova ordinanza. Il mondo spreca il cibo, ma gli italiani sono più virtuosi rispetto agli Stati Uniti e alla Spagna. Vaccino Pfizer 5, 11 anni, presentati i dati alla FDA. E con questo è più o meno tutto per quanto riguarda alcuni titoli di articoli che noi abbiamo pubblicato. Vi ringrazio per la vostra attenzione e vi do appuntamento alla prossima che, come dico sempre, non so quando sarà. Grazie ancora a Loredana.